Sei sicuro di essere comodo lì sopra? No, perché... In Poltrone Sofà, con i doppi saldi, ci sono sconti del 70% sulla collezione Affari d'Oro. Tela Rollo con due relax elettrici a 799 euro. Carpinetti in vera pelle a 690 euro. Gli Affari d'Oro si fanno solo fino a domenica. Negli oltre 300 negozi... Poltrone Sofà, solo divane di qualità.